Il tuo biglietto da visita finale? Era un'idea che avevo da molto tempo, quello di creare un salone dove i bambini fossero protagonisti, dove potessero giocare e divertirsi e vedere una risposta così importante è un motivo di soddisfazione. Quando le idee sono buone e c'è la possibilità di farle, io lo metterò indietro. Mi piace lasciare questo salone per Arezzo Fiere, sperando che in futuro venga ripetuto, venga possibilmente anche ampliato, quindi sono contento di averlo fatto. Tra l'altro abbiamo incontrato gente letteralmente felice, perché i bambini si divertono, poi i bambini sono il futuro, bambini che tra l'altro ci sono delle discipline, tipo la scalata qua, che sono completamente nuove per una fiera. Senti, il lasciare tutto questo momento, un po' di rammarico c'è? Un rammarico, un po' di dispiacere, non è che vado in pensione, vado a fare un lavoro importante, che è un'altra sfida vicino a casa mia, insomma con una serie di vantaggi anche personali. Vedere i genitori felici è importante, siamo tutti felici quando i nostri figli stanno bene, quindi questo è un posto dove i bambini giocano al sicuro, al caldo, senza spese eccessive e si divertono, è chiaro che poi i genitori sono contenti. Noi tutti, quando il nostro bambino, il problema è cosa gli facciamo fare sabato, domenica, come trascorrere il tempo affinché non sia sempre attaccato alla TV o comunque lo trascorre in modo ripetitivo. Questa è un'opportunità e sono contento che il pubblico abbia risposto.